Posso fare una domanda? Il pomodoro che sta nella margherita è insaporito prima? Solea? No, non ha fatto il... È insaporito prima con l'origano, l'aglia? Ma senza sale? No, è fatto da chi come... All'origano come... Ci lo tritiamo così lo mettiamo... Che sente proprio forte il sapore dell'origano, buono? Ah, l'origano? No! Ah, lei dice quando... No, è un momento, l'origano lo mettiamo per ultimo. È qui sente proprio tanto, è un'origano buono. Ma è un disturbo oppure... No, 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 è buono, buono proprio... Sembrava che era concentrato, che l'ha già fatto insaporito prima. Sì, è stato fatto. Sì, è stato fatto. Dopo me lo diamo. Dopo me lo diamo. Piersi, uno, c'è... Vai! Due mezzi e due mezzi. Le mezzi... Grazie mille